cominciamo la rassegna oggi dalla pagina 16 del corriere delle alpi dove c'è il titolone che si riferisce a cui si riferiscono anche le locandine che trovate fuori dai negozi fuori dall'edicole oggi belluno passante abbordata e aggredita in via feltre parliamo praticamente del centro di belluno due guardie giurate la salvano dallo stupro la donna aspettava un'amica erano circa le 19 il cameriere l'ha tirata fuori di peso dall'auto e trascinata su una panchina allora il racconto qui è di gigi sosso ovviamente io non ve lo leggo tutto ne vi leggo tutto del titolo basso di questa stessa pagina con la testimonianza della guardia giurata mirco buso il titolo dice la teneva stretta sui polsi e lei aveva già le mani blu il racconto di gigi sosso dicevamo si riferisce a fatti che sono accaduti nei mesi scorsi dicembre una sera di dicembre del scorso e si viene a sapere adesso questa cosa c'è anche l'intervista all'avvocato paolo patelmo c'è stata una gravissima violenza sessuale dice illegale di parte civile si viene a sapere adesso perché c'è la denuncia e così si scopre qualche particolare di più di questa vicenda che diciamo onestamente il nostro collega qui gigi sosso un po' romanza ma si tratta di una vicenda gravissima veramente gravissima adesso come sempre quando si arriva in tribunale bisogna prima aspettare che vengano compiuti tutti gli accertamenti ma insomma ci sono testimonianze dirette quello che questa donna ha subito in via feltri in pieno centro di belluno è assolutamente grave e inaccettabile dunque questa donna è stata praticamente di dodice sosso trattata come una prostituta da quest'uomo che pretendeva da lei un rapporto sessuale per di più dice l'articolo sotto gli occhi di più di una persona che avrebbe fatto poco più di niente per cercare di salvarla era di passaggio lungo la strada che porta in centro da una parte verso il cimitero di parade dall'altra per descrivere dov'è via feltre in attesa di un'amica e il suo abbigliamento dice sosso era tutt'altro che provocante questa cosa potrebbe infastidire una parte dei nostri lettori e delle nostre lettrici gigi sosso specifica che non il suo atteggiamento non poteva lasciare dubbi sul fatto che non si trattava di una una prostituta ma insomma su questo sorvoliamo in maniera del tutto in attesa nella zona tra una storica pizzeria e un'altrettanto storica sanitaria le si è avvicinato un ragazzone di origine africana che avrebbe cominciato a molestarla e infastidirla la donna pensava che volesse dei soldi ha cercato di allungarli 5 euro ma per toglierselo di dosso ma l'uomo non stava chiedendo la carità e ha risposto mettendole in mano una banconota da 20 secondo lui era il prezzo giusto per poter pretendere dalla donna una prestazione sessuale e voleva una prestazione orale dice sosso avrebbe cercato di fargli capire in tutti le maniere anche chiudendosi in macchina che lei non voleva assolutamente soddisfare i desideri di quest'uomo e quest'uomo della nato nel 1987 un giovane ottone di nazionalità maliana viene dal mali non ne ha voluto sapere di lasciarla in pace avrebbe spalancato la portiera ha tirato fuori la donna di peso dalla sua macchina dalla donna della macchina della donna e dopo approfittando dal fatto che è una ragazza minuta dice il il corriere il futuro imputato quello che adesso è un imputato se le sarebbe messa a cavalcioni dopo la violenza privata anche quella sessuale lei ha cercato di sottrarsi con il risultato di vedersi stringere con forza i polsi e qui finalmente sono arrivati i nostri dice sosso tra tanti più o meno indifferenti che al massimo hanno urlato di lasciarla perdere qualcuno ha avuto la buona idea avvertendo la mondial pol che ha sede lì vicino le guardie giurate mirko buso e bruno bezza sono usciti con urgenza dall'ufficio e alla vista delle pistole nelle fondine è stato lui a cominciare ad avere paura l'uomo i due l'hanno convinto a fermarsi ad esistere una volta per tutte chiamando intanto il 113 per far intervenire la polizia c'è voluto qualche minuto per poi l'indagato è stato caricato sull'auto di servizio portato in questura per l'identificazione qui io mi fermo con la lettura dell'articolo comunque insomma questa donna quando sono arrivati i i vigilanti dicono che loro hanno hanno testimoniato che questa donna aveva già i polsi dice proprio vi leggo vi leggo la frase abbiamo visto un uomo presumibilmente africano che stava stringendo con forza i polsi della ragazza lei aveva già le mani blu e con dei graffi quindi insomma una situazione veramente grave accaduta in dicembre in pieno centro di belluno in via feltre è anche in prima pagina il titolo oltre che sulle locandine rischia lo stupro in strada salvata da due vigilante se riassunto in prima così e poi lasciamo stare questo tema una trentenne bellunese 30 anni la donna ha denunciato di essere stata aggredita una sera dello scorso mese di dicembre in via feltre un uomo l'avrebbe abbordata e pesantemente molestata arrivando a offrirle 20 euro per avere un rapporto sessuale la donna è stata salvata dall'intervento di due vigilantes della mondial pol e il suo molestatore è imputato solo di percosse davanti al giudice di pace solo di percosse perché non si è arrivati ad altro ma le intenzioni dell'uomo erano più che chiare quindi adesso toccherà al al giudice cercare di capire bene che cosa è successo e quale debba essere la punizione per quest'uomo di sicuro una cosa che ci lascia stupefatti e anche sconvolti anche da qui facciamo sentire la nostra solidarietà a questa povera giovane donna che ha subito questa incredibile violenza in pieno centro a belluno dunque il corriere delle alpi apre sulla vicenda storica lunghissima pluridecennale del confine conteso sul ghiacciaio della marmolada belluno conquista terreno dice il titolo l'ipotesi di intesa c'è un'ipotesi di intesa sul patto galan dell'ai stazioni funiviarie a rocca pietro e piste trentine poi vediamo meglio di cosa si tratta e dal mass che firma a pagina 27 trovate in prima pagina qui sul corriere ma c'è anche sul gazzettino la foto di leonardo del vecchio con scusatemi con davide oldani che è un cuoco stellato le mense stellate di luxottica questo è il tema menu stagionali e prodotti locali luxottica chiama lo chef oldani leggiamo il lancio anche di questa notizia essilor luxottica fa ancora scuola questa volta sul cibo sano e sostenibile da servire ai dipendenti l'alleanza vede scendere in pista o meglio in cucina uno dei più amati chef italiani davide oldani stellato michelin e al quale è andato anche il riconoscimento della cosiddetta stella verde per l'attenzione alla sostenibilità dei suoi piatti i menu proposti ai dipendenti delle sedi italiane saranno ripensati puntando sulla qualità la stagionalità delle materie prime la filiera corta con l'utilizzo di prodotti locali la scelta di prodotti freschi e l'attenzione agli abbinamenti proposti ai dipendenti bello anche questo dei prodotti locali quanto avremmo bisogno di una maggiore attenzione da parte nostra noi della provincia di belluno di acquistare prodotti dell'agricoltura locale per tante ragioni primo possiamo metterci la salute ma anche l'economia della nostra terra belluno piazze vetrine si tingono di rosa bus deviati per il giro d'italia vedremo che il titolone sul gazzettino addio afferronato punto di riferimento per lo sciampezzano qui a menardi a pagina 30 che firma feltre teatro della sena altri sei mesi di cantiere e 300 mila euro infinita infinita la storia di quel teatro di feltre bellissimo stupendo difficilissimo da rimettere oggi in pista per essere di nuovo reso fruibile per lo scopo per cui è nato altri sei mesi di lavoro e 300 mila euro in più approvata dall'aggiunta di feltre la variante al progetto del teatro della sena scottini a pagina 23 la minoranza vuole il commissario serve una pausa direi incredibile cioè il comune di tambre va al voto siamo nel comprensorio dell'alpago e c'è una sola lista che si candida c'è il rischio quindi del commissariamento la minoranza invece che proporsi e gareggiare ritiene che serva una pausa incredibile mai sentito un'espressione di questo genere e quindi lavora altre volte è successo sotto banco ma qui dichiaratamente perché la gente non vada a votare perché così scatta il commissariamento che vuol dire che fino alle successive elezioni il comune sarebbe porterebbe avanti l'ordinaria amministrazione senza amministrazione di fatto ben venga il commissario prefettizio dice il l'articolo riassumendo la posizione della minoranza tambre sempre minoranza ha bisogno di un anno di pausa dopo tre lustri con la stessa maggioranza antonio bona della minoranza uscente lo dice apertamente la scelta di non presentare una lista e di puntare sul mancato raggiungimento del quorum è voluta ma a me viene da dire santo cielo se per tre volte per tre mandati ha vinto la stessa maggioranza ci saranno anche delle ragioni sia da parte sia sul fronte della maggioranza che evidentemente non fa così male sia sul fronte dell'opposizione che evidentemente non fa così bene so di banalizzare magari ma la scelta di abdicare di lasciar stare un processo democratico come quella dell'elezione del sindaco per preferire il commissariamento sinceramente la trovo proprio non so mi sembra una rinuncia civile veramente grave significativamente grave allora andiamo a vedere la prima pagina del gazzettino di belluno in 100.000 per il giro a belluno l'avete visto anche sulle locandine sale l'attesa per la tappa decisiva che partirà dal capoluogo e arriverà alla marmolada distribuiti kit rosa ai commercianti preoccupato il sindaco di roca pietro e dopo l'annullamento del 2021 la gara si farà ma non abbiamo personale sufficiente allora il lancio in prima davide piol qui che firma poi pagina 2 pagina 3 i gli approfondimenti nell'ultimo giro d'italia roca pietro era stata esclusa dalla competizione a causa della neve vi ricordate era quel giorno veramente brutto già i ciclisti sono passati per belluno che già pioveva forte sopra più su c'era la neve sono passati per il centro di agordo e sono stati annullati molti chilometri di quella tappa tra cui appunto la marmolada cioè il passo fedaia quest'anno dice l'articolo il tappone dolomitico finirà proprio in marmolada ma e qui sta il paradosso c'è qualche difficoltà con i preparativi andrea de bernardin rassicura che la gara si farà ma aggiunge anche che se che non sarà facile si prevedono infatti quasi 100.000 tifosi per noi spiega il sindaco è un grande onore ma anche un onere purtroppo la struttura comunale di rocca è sottodimensionata per vari motivi non poco ma tanto sottodimensionata la gestione del giro d'italia ci crea qualche problema è logico i piccoli comuni difficilmente sanno far fronte a eventi grandi che siano gli eventi di calamità naturali ma che siano anche eventi turistici importanti senz'altro bisogna imparare a fare più rete o comunque porsi il problema di questo tipo di difficoltà titoli sotto la testata spogliatoie tribune limana cavarzano costretto a giocare a sedico progetto nel cassetto pittura al fulcis un restauro aperto al pubblico l'evento tiziano si svela tiziano il pittore 120 nell'estate di pieve di cadore presentati gli appuntamenti dedicati al pittore cadorino grandi aspettative per il ritorno turistico che ci sarà nel territorio bellunese altri titoli da questa prima del gazzettino dopo due anni domenica torna alla corrifeltre belluno gli immigrati mandano sempre meno soldi a casa l'eldorado perduto in un trend nazionale positivo deve far riflettere il dato riguardante la provincia bellunese i cui numeri sono aumentati in maniera nettamente inferiore al resto della regione negli ultimi cinque anni nel 2021 la provincia di belluno ha fatto registrare rimesse che ammontano ad un totale di 10,8 milioni di euro molto sotto in termini percentuali rispetto agli altri territori della regione la foto centrale vedete qui i volti di leonardo del vecchio e dello chef oldani che appunto luxottica ha assoldato ed è la foto di giornata diciamo che il gazzettino sceglie come copertina lo chef oldani per i pasti in luxottica il titolo anche qui il titolo sulla morte di ferronato cortina addio a ferronato lo sport gli deve molto cortina in lutto per benito ferronato persona profondamente inserita nella vita del paese ad ogni livello è stato anche assessore nel 65 fu tra i fondatori del coro cortina dunque ieri c'è stata una disgrazia sotto le tre cime verso le tre cime sulla strada che porta al rifugio auronzo un turista un 65enne tedesco che faceva l'escursione da solo si è sentito male si è accasciato ed è morto è rotolato anche ruzzolato per una quindicina di metri hanno tentato di soccorrerlo e di reanimarlo ma non c'è stato niente da fare si accascia per un malore ruzzola per diversi metri è morto così ieri mattina sulla strada verso le tre cime un turista tedesco Gunther Thomas Roller 65 anni di Stoccarda inutili soccorsi subito allertati da alcuni passanti che lo hanno visto a terra e hanno chiamato i carabinieri chiedendo aiuto l'uomo era morto sul colpo l'allarme è scattato verso le 11 di ieri a dare l'allarme le persone in transito che hanno assistito alla scena tentando in vano di salvarlo c'è anche qui la notizia dell'aggressione belluno voglio sposarti la aggredisce e nessuno la difende aggressione al fondo sessuale via feltre nei guai uno straniero in il caso finirà davanti al giudice di pace oggi l'accusa rilancia non sono solo percosse dal racconto che abbiamo letto sul corriere sembra evidente che non si tratta soltanto di percorse rimonta pazzesca coppa dolomiti alla val zoldana un altro trionfo sportivo per la val di zoldo dopo lo scudetto under 13 dell'hockey ghiaccio con la mista cadore zoldo ieri sera è toccato ai calciatori della val zoldana che hanno conquistato la coppa delle dolomiti con una rimonta incredibile qui il lancio da urù poi a pagina 12 per i dettagli pallavolo nuovi nomi a fianco di darold per un budget più competitivo in a3 più si sale di categoria ormai più servono campioni i campioni costano e questa è la realtà sono giorni importanti per la pallavolo belluno che verrà nella a3 maschile 22 23 perché siamo rimasti in a3 per un soffio ricordiamocelo il direttore generale dare alle prese con le trattative per allenatore busato e simeone in lizza e opposto vaschelis dal sandonà rivela che il presidente e sponsor darold sarà affiancato da nuovi soci per un budget più competitivo e questo comunque se c'è la volontà di investire su una squadra che ha già fatto molto bene con nelle attuali condizioni è chiaro che siamo tutti contenti insomma perché vorrei dire che ci sono anche i margini rocca pietro e ci sarà giro d'italia ma non sarà facile è il titolone a firma davide piol di pagina 2 ai commercianti distribuiti kit la città diventa rosa e insomma siamo abituati a queste situazioni a belluno e sono sempre belle sono sempre piacevoli pieve di cadore sur classa belluno 120 per tiziano dice il titolone sull'articolo di giuditta bolzonello che presenta le importanti iniziative per celebrare il grande pittore cadorino per il bene comune a ruola anche vignato barbara vignato si gioca appunto su questo titolo della nuova lista presentata dalla candidata a sindaco di belluno lucia olivotto più che vignato il nome del candidato dell'altro candidato sindaco insieme a oscar de pellegrin colpisce direi la presenza in lista di paolo bello per tutti i ruoli coperti in precedenza e anche appunto per la sua appartenenza alla compagine di maggioranza con con massaro dunque l'articolo sull'aggressione firma davide piol dicevamo è a pagina 7 voglio sposarti le salta addosso il pm sono percosse la parte offesa chiederà che gli atti siano inviati in procura il racconto è molto più sintetico rispetto al corriere se volete vedere qui feltre ricomincia a correre la pandemia non ci ha fermati manicomio voci per ricordare tre giorni di studio la squadra di michela caiada riporteremo in vita in paese san gregorio delle alpi candidature per le amministrative mostra in locanda ristoratore mecenate vas capitale di arte gli spogliatoi del l'abbiamo detto del dello stadio che creano problemi e quindi per le tribune insomma e allora bisogna giocare a sedico la foto di del vecchio con oldani ma anche con francesco milleri che è la d di luxottica e poi andiamo avanti cortina bene comune vi sto leggendo i titoli di testa valle di cadore addio la suora dell'asilo madre isabella aveva 81 anni chissà quanta gente l'ha conosciuta questa suora incredibile valzoldana è l'apertura della sezione dello sport dicevamo del corriere delle alpi volevo mostrarvi qualcosa velocemente sulla vicenda della marmolada accordo in vista sulla marmolada stazione funiviarie a rocca pietro e veneto e trentino vogliono mettere un punto fermo concludendo il contenzioso che frena i piani di sviluppo ricordiamo in sintesi che l'accordo dell'ai e galan era arrivato dopo che si era le due parti avevano messo nero su bianco la volontà di collaborare provincia autonoma di trento e comune rocca pietro ragione veneto dall'altra parte di collaborare perché anche l'ultima sentenza non aveva chiarito perfettamente quali fossero i termini della questione sostanzialmente dava ragione a trento regalando alla provincia autonoma tutto il ghiacciaio cosa che dalle carte non è affatto corretto il ghiacciaio si dimostra in mille modi metà ghiacciaio la metà orientale dovrebbe appartenere continuare ad appartenere alla provincia di belluno al veneto a rocca pietro in realtà l'iter del processo il decreto pertini iniziale eccetera hanno dato peso alle mappe catastali di canna 6 che comunque presentano un confine diverso cioè oggettivamente c'è un problema ma sarebbe stato da capire come nasceva quel problema non da leggere superficialmente la questione come è stato fatto all'epoca di pertini fatto sta che il ghiacciaio con quel provvedimento già fu dato a trento da allora con la sentenza ultima del consiglio di stato diceva però che bisognava rispettare il displuvio ritenendolo un criterio geografico che doveva dirimere la questione fatto sta che se si rispettasse il displuvio il ghiacciaio orientale sarebbe di belluno i trentini l'han capito che se si andasse avanti con quella contesa rischierebbero anche di perdere tutto al limite perché c'è un vizio grave cioè il tribunale finale ha detto a ragione trento confine sul displuvio è come dire a ragione trento ma il confine deve essere quello che vuole belluno quindi insomma una cosa che si è deciso di risolvere con la pace dell'aigalam però mai messa in atto in quella pace si era detto vabbè allora tenetevi sto ghiacciaio cari trentini però le stazioni della funivia a cui si accede dal territorio bellunese che sono in sella quelle le teniamo su territorio assolutamente veneto senza dubbi insomma pare che si vada in questa direzione ecco allora io con questa buona notizia perché dove si mette pace è sempre buona notizia vi saluto vi auguro un buon venerdì 13 maggio ciao a tutti da Luigi Guglielmi un saluto che vi porta anche quello dei miei colleghi della redazione dei collaboratori di Radio Piave e dell'amico del popolo ciao a tutti buona giornata